E' sempre per le iniziative del territorio molto apprezzato il concerto di Capodanno dell'Associazione Musica Antica a Magnano che si è svolto nella chiesa di Santa Marta. L'ensemble è composto da Cinzia Barbagelata, Violino, Anastese Demetriad, Flauto Dolce, Luca Taccardi, Viola da Gamba e Violoncello e Georges Kiss Clavicembalo. Ha presentato un percorso musicale con i brani di Tartini, Pagine di Corelli, Vivaldi, Bach e Bonporti. Oltre che autore di bellissime composizioni, soprattutto per Violino, Tartini è stato anche il primo ad esporre la teoria del terzo suono. Le immagini che vedete sono di Gabriele Maiolino.